e come lei vede abbiamo tentato di farlo e tentiamo di farlo con varie misure. Intanto mi corre l'obbligo di ricordare che noi abbiamo varato la riforma fiscale che era una riforma attesa da 50 anni circa. Voglio ringraziare anche il MEF, in particolare il Vice Ministro Leo per un lavoro estremamente veloce di stesura dei decreti che dipendono.